Un momento molto bello per la città di Tolentino e un momento molto bello anche per me, perché riconoscere che c'è stato un uomo vero che ha fatto gustare la dignità della vita, un cristiano che ha fatto brillare il Vangelo come ha fatto Lugino Rocchi, questo è un motivo che riempie il cuore di grande gioia anche per me e per la città di Tolentino e dà anche speranza, dà fiducia di poter costruire un mondo più buono moltiplicando uomini così. Una festa per tutti, per la città di Tolentino, la diocesi e anche per il cardinale Comastri che ha presieduto la messa di ringraziamento nella concattedrale di San Caterbo dedicata alla proclamazione ufficiale del venerabile Luigi Rocchi, il santo in carrozzina, nato a Roma il 19 febbraio 1932, morto a Macerata il 26 marzo 1979 all'età di 47 anni dopo averne passati 28 immobile mani e piedi in un letto. La malattia e l'immensa sofferenza hanno reso la sua fede sempre più forte come testimoniano tanti amici, messaggi, foto e testimonianze tra cui quella del cardinale Ruini. Così dopo 22 anni l'iter della causa di beatificazione di Luigi Rocchi, iniziata con la firma dell'allora vescovo Tarcisio Carboni, 17 ottobre del 1992. Ben otto volumi di materiale sulla sua vita per un totale di 3.000 pagine sono stati raccolti dal postulatore Don Rino Ramaccioni, parroco della chiesa di San Caterbo ed ora del Cristo Redentore a Re Canati.